oggi ho fatto un po di scorta di foglie di castagno guardate che bel riccio che ho portato a casa bellissimo e come vedete amici ho fatto la scorta per le foglie di castagno poi metto essiccare perché poi mi servono in cucina ne devo prendere ancora perché c'è da affrontare tutto l'anno con le foglie di castagno e devo fare una grossa scorta me ne servono almeno 300 foglie per poter soddisfare tutte le mie esigenze per tutto l'anno poi vi farò vedere come le uso e perché cosa le uso bene amici vi lascio con questa bella vista delle foglie di castagno guardate che belle poi tra queste io sceglierò le più belle le meno rovinate vedete questa qui ad esempio sarà da scartare le pulisco dalla polvere controllo che non ci siano insetti e dopo di dopo che sono secche le conservo così intere non devo spezzettarle oggi abbiamo parlato delle foglie di castagno e gli usi che ne dovrò fare ve lo dirò dopo ecco